Il presidente di Acciaieri d'Italia, Franco Bernabè, a Taranto per partecipare all'edizione 2022 dello SMAO che si è svolto nella sede dell'autorità portuale. L'occasione è servita per affrontare i temi legati alla decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico tarantino. Abbiamo chiesto a Bernabè a che punto siamo. Quello che io vedo è un potenziale a Taranto notevolissimo per quanto riguarda la decarbonizzazione perché c'è un'attenzione da parte delle grandi imprese, c'è un'attenzione da parte di start-up e questa iniziativa della SMAO lo testimonia. Quindi io credo che nei prossimi anni si svilupperà un processo di innovazione tecnologica di cui beneficeranno non solo le imprese locali, beneficeranno l'università, beneficerà tutta l'imprenditoria che verrà rilanciata proprio da iniziative di questo genere. Decarbonizzare dunque secondo Bernabè significherà mobilitare grandi risorse. Proprio per la presenza storica dell'industria a Taranto e per le esigenze di sviluppo che l'industria ha a Taranto, io credo che tanto sarà la città che ne beneficerà di più. Vanno mobilitate le imprese, io ho parlato con tante grandi imprese italiane, c'è l'intenzione di concentrare su Taranto degli sforzi importanti. Naturalmente non ci si può attendere che nel giro di qualche settimana, capisco l'urgenza, capisco l'esigenza di fare in fretta, però io credo che ci si debba rendere conto della complessità e anche della potenzialità. Taranto ha bisogno di un ristoro per la sua eredità storica, per il contributo che storicamente ha dato l'industria italiana e questo ristoro può venire proprio dall'innovazione e dal potenziale che questa innovazione rappresenta. Grazie a tutti.